bravo 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 recupero bravo bravo parca miseria c'hanno un pelo ragazzi uccidili tutti basta basta eh va bene quello è il carattere però non bisogna romperli ma devono divertirsi perché io ho conosciuto una maniera di ragazzini beh gli hanno rossi i maroni sono arrivati e hanno mollato il fondo e dopo basta devono giocare ma per la moto di Atria hanno fatto la gara eh via 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 vai stia ragazzi eh beh oh hai già recuperato bene eh ascolta sono i figli di bellezza ma si bravo ma se ne vede su Faustino anche eh certo non ti vede ancora in giro via oh Faustino gira là e non si e tutta la pianta si blocca lì in coppia si si ma non si sta lì lì ma si sta divertendo una cifra ma te è sabato vieni su e non so come e perché vedo adesso ma una volta non ce l'ho eh eh non ce l'ho c'era la Sergio non rompere i coglioni com'è eh hai cagato si ma no è la prima volta a venirla subito ma Valea facciamo un giro che può fare Fausto eh figo cazzo c'entra come è che Fausto gli facciamo fare il giro? no io sabato sono uscito e c'era anche lì ah che trappata si aspetta aspetta che ci facciamo un flash ma non lo scappiamo a due anni di casa no ma se non glielo fai capire la figlia non viene più neanche la figlia ma figlia non sono loro due la figlia lo ammazza no non lo muoto manca fiffra non lo esiste per me dai che devo prendere questi due qua forza andiamo vai vai è non 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 è che numero che numero hai capito? ti ha risposto? hai visto niente vai seve andiamo no li trovi su gruppo trio di protezione civile o motoclubi leoni tutto attaccato uno l'altro su youtube intanto ce ne sono su più di 10.000 e ce ne sono su 40-50 milioni di visite quindi trovi di tutto e di più non andare troppo nelle playlist sotto delle cadute perché non esci più poi ma a te ti piace il rischio è figaro vieni la fontina non chiudere non chiudere via 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 non devi chiudere no no vai stai ok oh ma due cameraman addirittura due allora uno da sopra uno da sotto è a uno guarda il primo giro è come il mio ma il trucco sai cos'è che tagli via questo tagli via questo io devo arrivare a 106 108 108 sono le male tibetane 106 per per meditare sono 108